Salve ragazzi, benvenuti nel canale Alienology, io sono Ali e quest'oggi sono qui per una rubrica che riporto in auge dopo alcuni mesi in cui mi ero fermato, e cioè per la rubrica playlist recupero letture e riletture, in cui vi porto dei fumetti che rileggo o che leggo per la prima volta è che ho recuperato dopo, quindi nell'usato o nel nuovo anche, ma in questo caso nell'usato perché un mesetto o un paio di mesi fa ho recuperato questo volume nell'usato e l'ho letto oggi e per cui ve ne vorrei parlare qui sul canale, sto parlando di uno speciale, Martin Mistero e il grande Zirmani contro il fantasma del museo, eccolo qui, questo è uscito ufficialmente nel dicembre 2018, quindi ormai quasi tre anni fa, è uno speciale a colori di circa 82 pagine, diciamo che il fumetto va da pagina 3 a pagina 67 se non sbaglio, 66, è a colori e questo nuovo costava 4,90 euro, l'ho recuperato a metà prezzo, anche un po' meno della metà nell'usato dal mio amico che ogni tanto comunque mi vende, praticamente quasi mi regala a prezzi irrisori dei fumetti bonelli, per cui questo qui, questo speciale mi attirava perché tra l'altro è anche scritto oltre da Alfredo Castelli ma da l'attore comico e illusionista Raul Cremona, vediamo la copertina, vi faccio vedere subito, insomma vi parlo di quello che c'è appunto prima che inizi la storia, Martin Mistero e il grande Zirmani il fantasma del museo, con la presentazione di Mr. Mago Forest, quindi c'è il Mago Forest che parla qui, il Mago Forest parla insomma anche del suo amico Raul Cremona e di come sono arrivati insieme ad Alfredo Castelli a scrivere questa storia, il testo è di Alfredo Castelli e Raul Cremona, i disegni sono di Paolo Ongaro, i colori di Daniele Rudoni, la copertina di Lucio Filippucci, foto di copertina Efraim Raimondi, grafiche da Alfredo Castelli, lettering di Luca Corda, collaborato Giovanni Gualdoni, la copertina di Lucio Filippucci, ci sono anche delle rubriche, dei trucchi insomma alla fine come al solito Martin Mistero capita che ci sono sempre, ovviamente, diciamo qui c'è l'intervista proprio Raul Cremona che ci spiega da dove è nata questa storia, per il fatto che lì è un illusionista, c'è questo grande Zirmani, lui ha anche scritto un libro su questo grande Zirmani, insomma questo è un albo di avventura che parla ovviamente di magia, visto che come detto c'è Raul Cremona e questo fantomatico grande Zirmani, vi spiego a grandi linee di cosa parla la storia, insomma però prima volevo farvi vedere un po' i disegni e i colori di questo albo, i disegni sono di Paolo Ongaro e come abbiamo detto i colori sono di Daniele Rudoni, vi faccio vedere un po' i colori di questo bell'albo alla fine, di un formato un po' più grande, un po' più ampio e già si vede insomma che il formato è diverso, ha colori, secondo me ha colori anche ben colorati, i disegni sono nell'ordine insomma, nello stile di Martin Mistero, insomma vi parlerò di quello che mi ha suscitato leggere questo volume che mi incuriosiva parecchio ma che c'avevo lì tra le tante cose che devo ancora leggere per cui oggi ho deciso di recuperare la lettura, poi ovviamente fatemi sapere nei commenti se avete letto questo albo uscito a fine 2018, per chi legge abitualmente Martin Mistero o per chi lo conosce insomma, per chi ha letto questo albo che devo dire che mi è piaciuto, io diciamo che le storie con la magia, queste cose qui non mi hanno mai fatto impazzire, però qui nello stile di Martin Mistero, quindi con il mistero sempre improntato a come dire, allo stile di Martin Mistero, devo dire che è una storia che mi è piaciuta, ha avuto anche dei picchi, come si suol dire, molte cose interessanti all'interno, però è stata una lettura tutto sommato piacevole, anche se non proprio tra le migliori, però tutto sommato piacevole, bella anche l'introduzione del Mago Forest, che parla del suo amico Raul Cremona, del Alfredo Castelli, della creazione insomma di questo albo e di Martin Mistero anche in generale, la storia come inizia è ambientata a Praga nel 1944, ci sono dei nazisti che vanno a sequestrare delle cose, poi si viene a sapere insomma, si parte, questo è il prologo che va fino a pagina 5, a pagina 6 inizia proprio la storia, Martin Mistero, il grande dei Zirmani, il fantasma del museo, di Alfredo Castelli e Raul Cremona, come ha detto i disegni di Paolo Ongaro, allora prima si, come spesso accade su Martin Mistero, prima si è qui nel passato che ti fa capire insomma nel prologo cosa andremo a leggere, quindi nel 1944, poi i giorni nostri ci sono Martin Mistero e Java che sono a New York e prendono un volo per Cincinnati nell'Ohio, restano negli Stati Uniti ma vanno a Cincinnati per incontrare una persona, una persona Closterman, un certo Closterman che gli fa vedere la sua Magic Hall, un posto, praticamente una cantina dove ci sono degli oggetti misteriosi che lui tiene comunque in un posto appunto, una cantina sperduta in questo posto perché insomma sono oggetti di valore appartenuti a, insomma in questo caso al passato e si cita, cioè più che altro loro si renderanno conto che appunto proprio Closterman si renderà conto che col tempo vedrà degli oggetti che si sono stati spostati, quindi ci sarà questo fantomatico fantasma e si parla del grande Zirmani, chi è il grande Zirmani, il grande Zirmani è un illusionista, è un illusionista che dicono qui appunto che magari non è mai esistito, però è stato presente addirittura qui, addirittura nella conoscenza con Einstein, qua questa cosa mi ha colpito perché addirittura dice che aveva suggerito la teoria della relatività, è stato, si dice che abbia esplorato la Terra Cava al fianco dell'amiraglio Perry, poi che fosse a Yalta durante la famosa conferenza 1945, insomma questo misterioso e fantomatico grande Zirmani apparirà in queste pagine e all'inizio si crederà fosse una persona mai esistita, ma in realtà non vorrei spoilerarlo insomma perché comunque è una storia che vorrei che recuperaste in un certo qual modo magari nell'usato o se si trova anche sul sito Bonelli, però questo grande Zirmani diciamo che anche Java sarà molto protagonista in questa storia, Java avrà dei problemi, più che altro il mistero di sapere se questa persona, questo illusionista grande Zirmani sia davvero esistito, sarà il perno proprio di tutta la storia ideata da Raolo Cremona e Alfredo Castelli. Che dirvi ragazzi, è una storia che parla come un dato di magia, un illusionismo di questo Zirmani che sembra una persona, più che altro sembra una persona mai esistita, una persona ad un certo punto anche che si camuffa, visto che è un mago e avrà a che fare con Martin Misteri, alla fine non vi dico come va a finire, ma c'è un finale anche abbastanza, come dire, sorprendente, per cui io potrei dire che è stata una lettura abbastanza piacevole. Non, come dire, sì, abbastanza nelle mie corde, perché a me piace comunque Martin Misteri, piacciono le sue storie, come detto più di una volta, insomma, più detto spesso, Martin Misteri è sempre un fumetto abbastanza interessante da leggere, perché ti fa, si rivolge anche alle storie vere, ovviamente poi rivisitate da Alfredo Castelli, ma in questo caso è qui Raolo Cremona, il vero protagonista, perché è lui che ha ideato questo, diciamo, anche scrivendo questo libro del grande Zirmani, qui dice insegni ai trucchi del grande Zirmani, introduzione di Mr. Forrest. Per cui ragazzi, secondo me è stata una buona lettura, un recupero di una lettura che non conoscevo, come detto pochissimi mesi fa l'ho recuperato nell'usato, grazie al mio amico Antonio, che saluto, questa devo dire che è stata un'ottima lettura, poi comunque ragazzi è vero che sono 82 pagine a 4,90€, uscita a dicembre 2018, però i colori, i disegni, come anche la storia in generale, secondo me ne vale la pena di leggere, perché ovviamente dovete essere un po' appassionati di magia, di illusionismo, e soprattutto dovete essere molto, molto curiosi, come ho sottoscritto, ovviamente vi deve piacere anche Martin Mister, però io sinceramente mi sento di consigliarla a chi magari non l'ha ancora letta. Per chi l'avrà già letto, ovviamente ditemi nei commenti, commentate pure, ditemi cosa ne pensate di questa lettura, se l'avete già letto, visto che è uscito quasi tre anni fa. Per chi invece non l'ha mai letto, spero siate curiosi, comunque scrivetemi nei commenti, io come al solito vi risponderò, risponderò, perché come ben sapete è sempre un piacere avere a che fare con voi, che mi seguite con tanto calore e mi riempite di complimenti, ragazzi, a volte veramente sono come dire, sono quasi imbarazzato dai vostri complimenti, io ragazzi, io cerco di fare il mio, sono un appassionato di fumetti, di mondo nerd, porto le mie passioni sul canale e mi diverto tantissimo. Poi quando ci sono queste piccole soddisfazioni di gente che mi segue e che mi dice, ma sei bravo, ragazzi, io non ho più parole per ringraziarvi, per cui ragazzi, ovviamente vi ringrazio ancora una volta per tutto il supporto che mi date, seguite questa rubrica playlist di recupero letture e riletture, c'è tanta carne al fuoco, tanta roba che devo ancora leggere, per cui se siete curiosi, questo è il posto giusto, per cui ragazzi, grazie ancora, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!